O quanto odio i falsi scrittori con il Birignao, quelli che riescono ad apparire come portatori di una scienza infusa e sono nati grandi, o come li odio tutti questi signori i quali poi appena scompare una di quelle persone, uno di quei loro colleghi che hanno tanto denigrato perché erano troppo popolari, perché scrivevano dei romanzi che raccontano delle storie, perché erano troppo comprensibili, o quanto li odio tutti questi intellettuali i quali però alla morte del loro nemico scrittore popolare, piangono lacrime, lacrime non di coccodrillo, piangono lacrime formali per essere anche loro sulla cresta dell'onda di quella notizia e piangono quello scrittore che 5 minuti prima, fino a 5 minuti prima, avevano denigrato. Grazie. 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 Grazie.